Terza puntata di questi incontri espositivi che abbiamo realizzato con la Regione, con il Consiglio regionale del Piemonte, l'Accademia Albertina e Belle Arti, la Cattedra di Scenografia del Cinema e Animazione Digitale. Questi sono gli artisti che espongono nella mostra. Facciamo un giro veloce di nomi. Serena, Giulia, Serena, Matteo, Federica. Abbiamo fatto curare questa mostra a una giovane studentessa, ormai laureata, Francesca Ventura, che ha curato tutta la parte espositiva e la progettazione della mostra. Il mondo dell'animazione è il protagonista della mostra Tosherod dal 22 dicembre al 28 gennaio presso la Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Organizzata dagli studenti del Corso di Applicazioni Digitali per le Arti Visive dell'Accademia Albertina di Torino, l'esposizione intende raccontare il lavoro che è alla base dell'ideazione di un'animazione e la varietà di risultati creativi che possono scaturire dalla riflessione su un medesimo tema. La mostra espone i progetti di animazione digitale, quindi il character design e i video di animazione di questi argomenti. Sono progetti originali realizzati dagli studenti e parti delle nostre progettazioni di scenografia cinematografica. Tutto il progetto andrà in tour all'estero per Biennale di Istanbul e Quadriennale di Praga. E poi ovviamente un'anticipazione saranno esposti all'interno del Festival Internazionale delle Scuole d'Arte a luglio all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.